ciao a tutti ecco l'ultima stasera allora ai vecchi tempi quando c'era il servizio di leva che si veniva precettati e quindi diventare suo del governo e si raggruppavano in un cortilone e poi dopo il colloquio ti facevano una specie di visita psicotecnica per assegnarti al corpo di appartenenza allora chiamano uno gli dice tu dimmi cosa c'è scritto la c'era scritto funicolare di como cosa c'è scritto la funicolare di como bravo arruato bersaglieri tu cosa c'è scritto la funicolare di como arruato carissimi ehi tu dimmi cosa c'è scritto la funicolare di como arruato carabinieri